Domani mercoledì 28 maggio la chiesa fa memoria di Sant'Emilio Martire, le previsioni meteo di Telenuova benvenuti, correnti occidentali o nord-occidentali instabili continuano a portare nubi e piogge soprattutto pomeridiane sul centro nord dell'Appennino, localmente sulle regioni adriatiche e diffusamente al nord, specie su Alpi, Prealpi, centro-ovest del Piemonte della Lombardia, Romagna e nord-est un po' tutto. Va meglio per il resto della giornata sulla Liguria centrale e sull'Emilia, sul sud-ovest della Lombardia con nubi più irregolari e fenomeni più deboli o anche assenti o meglio ma qui al mattino sul Piemonte e sull'ovest della Lombardia peggiora però man mano nel corso della giornata. Temperature più o meno stazionarie con valori massime, mediamente comprese in pianura tra i 21 e i 25 gradi. Sulla nostra regione resterà ben saldo l'anticiclone che spingerà aria calda e non molto umida il tempo, pertanto sarà stabile nel complesso con cielo sereno poco nuvoloso nella giornata di domani salvo qualche locale addensamento di passaggio. Le temperature saranno stazionarie, eventi deboli di direzione variabile o a regime di brezza, il mare sarà poco mosso.